Grazie Presidente, mi perdoni se mi rivolgo anche alla cittadinanza che so che ci ascolta numerosa tramite il canale del Comune. Ho sentito diversi interventi che fanno riferimento comunque ai lavori che sta portando avanti in città questa amministrazione, i vari cantieri aperti legati al fatto che probabilmente si poteva fare di più. In realtà i cantieri aperti, che è quello che ci dice la cittadinanza, i cittadini anche che vivono la città tutti i giorni sono molti di più rispetto a quelli del passato. Se si parla di cantieri non si fa riferimento perché è difficile spiegarlo. Il cantiere più importante che c'è in questo momento in questa città, il cantiere che sta rimettendo a posto i conti in questa città. È un cantiere che ovviamente non è visibile perché non si manifesta fisicamente, però è un cantiere che sta producendo enormi risultati. Io faccio riferimento soprattutto a quel lavoro che è stato fatto dal nostro assessorato qui presente e che ringrazio insieme alla Commissione Bilancio. Il dato che riporta rispetto allo scorso anno nel triennale il raddoppio del titolo secondo degli investimenti è un dato per questa città che è fantastico. Una notizia che sta passando in secondo piano, ma questo è il vero cantiere di questa città, è quello che sta accadendo per rimettere in piedi quello che serve a questa città. Mesi e mesi, anzi forse da quando ci siamo noi due anni e mezzo di critiche rispetto a ritardi manutentivi, rispetto a mancanze infrastrutturali. Noi stiamo rimettendo in piedi tutto ciò e non parlo soltanto della manutenzione sulle strade, la manutenzione del verde, le cose più importanti appunto che dovrebbero essere anche in regime di manutenzione straordinaria monitorate e perseguite con costanza da amministratori capaci. Parlo soprattutto di quello che serve da decenni ad esempio in questa città. Quando stiamo dicendo che stiamo stanziando 500 milioni ed è soltanto la prima richiesta per alcuni interventi di mobilità. L'altro giorno l'assessora Meleo ha fatto un'apertura relativamente a questo stanziamento, a questa richiesta, ricordando che quando lei ha iniziato la sua attività all'interno del Dipartimento e all'interno dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità non ha trovato neanche mezzo progetto pronto per cui chiedere uno stanziamento. Oggi stiamo annunciando che entro la fine dell'anno andremo a chiedere i finanziamenti per alcune opere tramviarie, per l'acquisto di 50 tram, opere tramviarie su cui abbiamo chiuso i progetti. Allora a me viene una domanda, mi sono fatto stampare uno storico dove ad esempio sul deliberato dal 2008 in poi si legge qualcosa come ogni anno una media di 2 miliardi sul titolo secondo per manutenzioni straordinarie e per investimenti, progetti di riqualificazione urbana, progetti infrastrutturali per quello che riguarda la mobilità, soprattutto magari su ferro. 2 miliardi più o meno all'anno, tranne il collasso che c'è stato nel 2015, probabilmente legato anche a tutte le operazioni che dovettero fare per tenere botta rispetto a quello che accadde al dicembre 2014, ricordate tutti quanti, mafia capitale. Abbiamo fino al 2014 una media di 2 miliardi all'anno stanziati, a titolo secondo, dove sono andati a finire questi soldi? Oggi io sento molte critiche alla nostra amministrazione, la domanda è semplice, dove sono andati a finire questi soldi? Circa 2 miliardi deliberati e da quello che vedo anche assestati, anzi in qualche annualità gli assestati rendono anche superiori, cioè il rendiconto della spesa, di quanto speso. Fermo restando che molti di questi bilanci furono approvati a luglio, marzo, luglio, novembre, dicembre addirittura, quindi a chiusura dell'esercizio, quindi non si sapeva mai effettivamente cosa era stato speso nella legalità. Questo poi chiaramente sta anche nei fascicoli di tribunali, ma non voglio fare polemica su questo. Quello che mi interessa capire è dove sono stati spesi questi soldi, perché la città se viene da decenni di debito manutentivo e di assoluta mancanza di interventi sulle infrastrutture, mi chiedo dove sono stati spesi? Qualcuno dovrebbe dirlo, nel momento in cui noi ci troviamo invece con un bilancio che è sul titolo secondo molto inferiore, perché evidentemente quando si comincia a lavorare con le somme reali, con le somme che si possono spendere nella legalità, i conti sono differenti. Quando diciamo che il nostro è il bilancio delle manine libere, che non hanno nessun contatto con situazioni poco chiare, diciamo questo, stiamo dicendo questo, quando diciamo che il nostro cantiere più importante è quello che sta ricostruendo il muro portante di un'amministrazione, qual è quella di una capitale europea. Prima sentivo un intervento di un collega che citava New York, New York ha qualcosa come noi milioni, se non sbaglio, di abitanti con un bilancio di 70 miliardi. Ora, per carità, gli Stati Uniti hanno un regime fiscale, un'imposizione fiscale che è neanche la metà della nostra, quindi anche lì bisognerebbe capire come fanno a impegnare tutte queste risorse pubbliche a parità di abitanti, ma magari ci arriveremo. Ecco, questo è il nostro obiettivo, ricostruire questo muro portante in cui ogni amministratore partecipa con il suo lavoro, mattone per mattone, nella piena legalità, testa alta, in modo che non si parli mai più di Roma rispetto a una città che appartiene a un paese dove vige la corruzione. Perché non lo abbiamo detto noi, ma molti di questi miliardi che sono spariti sono finiti proprio in quel tipo di tasche legate a quel tipo di modalità amministrativa, ma oggi pare che non se ne parli più e si condanna questa amministrazione per il ritardino di qua, il problemino di là, il milioncino sotto e il milioncino sopra. Quando poi in realtà abbiamo sempre detto che quello che serviva a questa città era realizzare quelle infinite, centinaia di migliaia di piccoli cantieri per piccole opere che servono a questa città. In realtà l'unica grande opera che è stata realizzata in questa città fino al nostro avvento è stata solo una, il fatto di ancora oggi non riuscire a capire tutti questi soldi che venivano stanziati anno per anno dove sono andati a finire. Grazie.